Nella solitudine dei campi di cotone di Bernard Maricoltes con Claudio Amendola e Carlo Cecchi adattamento radiofonico e regia di Mario Martone Se lei se ne va in giro a quest'ora e in questo posto vuol dire che desidera qualcosa che non ha e questa cosa io gliela posso dare perché se io sono in questo posto da molto più tempo di lei e per molto più tempo e se persino quest'ora che è l'ora dei rapporti brutali fra gli uomini e gli animali non mi caccia via di qui è perché io ho quello che ci vuole per soddisfare il desiderio che mi passa davanti ed è come un peso di cui mi devo liberare su chiunque uomo o animale passi davanti a me per questo mi avvicino a lei nonostante sia l'ora in cui di solito l'uomo e l'animale si avventano ferocemente uno sull'altro mi avvicino io a lei le mani aperte e i palmi rivolti verso di lei con l'umiltà di chi offre di fronte a chi compra con l'umiltà di chi possiede di fronte a chi desidera e vedo il suo desiderio accendersi come una luce a una finestra in cima a un palazzo al crepuscolo mi avvicino a lei come il crepuscolo avvicina questa prima luce con dolcezza, con rispetto, quasi con effetto lasciando che giù in strada l'animale e l'uomo tirino le loro catene e si mostrino i denti con feroce non che abbia indovinato quel che lei potrebbe desiderare né che abbia fretta di saperlo il desiderio di un compratore è la cosa più malinconica del mondo la contempli come un segreto da niente che chiede solo di essere svelato e te la prendi comoda prima di svelarlo il fatto è che io stesso, da quando sono in questo posto, ho desiderato tutto quello che ogni uomo o animale può desiderare in quest'ora buia, che lo costringe a uscire da casa nonostante i grugniti selvaggi degli animali insoddisfatti e degli uomini insoddisfatti ecco perché io so, meglio del compratore inquieto che conserva ancora per un po' il suo mistero come una verginella allevata per essere una puttana che quello che mi chiederà io ce l'ho già e che tutto quello che dovrà fare lei senza sentirsi offeso dall'apparente ingiustizia che c'è nell'essere chi domanda di fronte a chi offre sarà chiedermelo perché su questa terra la sola vera ingiustizia è quella della terra stessa arida per il freddo, arida per il caldo e raramente fertile per la dolce mescolanza del caldo e del freddo non esiste ingiustizia perché cammina sulla stessa parte di terra sottoposta allo stesso freddo, allo stesso caldo o alla stessa dolce mescolanza e ogni uomo o ogni animale che può guardare negli occhi un altro uomo o un altro animale è suo simile perché si muovono sulla stessa sottile piatta linea di latitudine schiavi degli stessi freddi e delle stesse calure ricchi allo stesso modo e nello stesso modo poveri e la sola frontiera che esiste è quella fra il compratore e il venditore ma è una frontiera incerta perché tutte e due posseggono il desiderio e l'oggetto del desiderio a un tempo concavo e convesso con ancora meno ingiustizia di quella che c'è nell'essere maschio e femmina fra gli uomini e gli animali è per questo che prendo provvisoriamente in prestito l'umiltà e a lei presto l'arroganza così che ci si possa distinguere l'uno dall'altro in quest'ora che è inevitabilmente la stessa per lei e per me allora mi dica malinconica vergine ora che il grugnito di uomini e animali si fa sordo mi dica la cosa che desidera e che io le posso dare e io gliela darò con dolcezza quasi con rispetto forse con affetto poi dopo aver colmato le valli e spianato i monti che sono in noi ci allontaneremo uno dall'altro in equilibrio sul filo sottile e piatto della nostra latitudine soddisfatti in mezzo agli uomini e agli animali insoddisfatti di essere uomini e insoddisfatti di essere animali ma non mi chieda di indovinare il suo desiderio non mi faccia elencare tutto quello che possiedo per soddisfare quelli che mi passano davanti da quando sono qui il tempo che ci vorrebbe per questo elenco dissecherebbe il mio cuore e indebolirebbe senz'altro la sua speranza io non me ne vado in giro in un certo posto e a una certa ora io vado da un punto a un altro per affari privati che si trattano in questi due punti e non lungo il tragitto non so niente di nessun crepuscolo né di nessun tipo di desiderio ed è mia intenzione ignorare gli incidenti di percorso io andavo da quella finestra illuminata lassù dietro di me a quell'altra finestra illuminata laggiù davanti a me seguendo una linea perfettamente diritta che passa attraverso di lei perché lei si è deliberatamente messa in mezzo ora non esiste nessun modo che consenta a chi si deve spostare da un luogo elevato a un altro luogo elevato di evitare di scendere per poi dover esalire con la conseguente assurdità di due movimenti che si annullano e con il rischio fra i due di pestare ogni passo i rifiuti buttati dalle finestre più si abita in altro più lo spazio è sano ma più dura è la caduta e quando l'ascensore ci deposita in basso ci condanna a camminare in mezzo a tutto quello che lassù non abbiamo voluto in mezzo a un mucchio di ricordi putrescenti come al ristorante quando un cameriere ci fa il conto e elenca alle nostre orecchie nauseate tutte le pietanze che stiamo già digerendo da un pezzo d'altronde l'oscurità avrebbe dovuto essere ancora più fitta tanto da non farmi distinguere niente della sua faccia allora forse avrei potuto ingannarmi sulla legittimità della sua presenza e dello scarto che ha fatto per piazzarsi sulla mia strada e fare anch'io uno scarto che si accordasse con il suo ma può esserci un'oscurità più oscura di lei non c'è notte senza luna che non sembra il mezzogiorno se lei vi sta passeggiando e quel mezzogiorno mi rivela piuttosto chiaramente che non è stato il capriccio dell'ascensore a piazzarla qui ma un'inesorabile legge di gravità che le appartiene che porta visibile sulle spalle come un sacco e che la inchioda quest'ora in questo posto da cui valuta sospirando l'altezza dei palazzi quanto al mio desiderio se ci fosse qualche desiderio di cui io potessi ricordarmi qui nell'oscurità del crepuscolo fra i grugniti di animali di cui non si riesce a vedere neanche la coda oltre al desiderio prepotente che lasci perdere l'umiltà e che eviti di farmi dono dell'arroganza perché se io posso avere un debole per l'arroganza odio l'umiltà in me e negli altri e questo scambio mi infastidisce quello che io desidero sicuramente lei non ce l'avrebbe il mio desiderio se mai ne avessi uno se mai glielo esprimessi le brucerebbe la faccia le farebbe ritirare la mano con un grido e le scapperebbe via nella notte come un cane che corre via veloce che non gli si vede neanche la coda no la confusione di quest'ora e di questo luogo mi fa dimenticare se ho mai provato un desiderio di cui possa ricordarmi no ho ancora meno cose da chiederle che cose da darle bisognerà proprio che lei faccia un passo in là se non vuole che lo faccia io che si tolga dalla linea che stavo seguendo che sparisca perché quella luce lassù in cima al palazzo verso la quale avanza l'oscurità continua imperturbabile a splendere squarcia l'oscurità come un fiammifero acceso squarcia la stoffa che cerca di soffocarlo lei ha ragione a pensare che io non scendo da nessuna parte e che non ho nessuna intenzione di salire però avrebbe torto a credere che me ne rammarichi io evito gli ascensori come un cane evita l'acqua non che si rifiutino di aprirmi le porte né che io provi delle resistenze ad entrarci il fatto è che gli ascensori in movimento mi fanno il solletico e così io perdo la dignità e se mi piace che qualcuno mi faccia il solletico mi piace anche che la smetta quando la mia dignità lo esige con gli ascensori succede come con certe droghe abusarne ti rende fluttuante mai del tutto su mai del tutto giù scambi linee curve per linee rette terra geli il fuoco proprio dove la fiamma è più viva eppure da quando sono in questo posto so riconoscere quelle fiamme che da lontano dietro i vetri sembrano gelide come sere d'inverno ma a cui basta avvicinarsi con dolcezza con affetto forse per ricordarsi che non esiste una luce totalmente fredda quello che voglio non è spegnerla io voglio ripararla dal vento e asciugare l'umidità dell'ora al calore di questa fiamma perché può dire quello che vuole ma quando mi ha visto la linea sulla quale camminava da dritta che forse era si è fatta storta e io ho colto il momento preciso in cui lei si è accorto di me dal momento preciso in cui la sua strada è diventata curva e non curva per allontanarsi da me ma curva per venire da me altrimenti non ci saremmo mai incontrati e lei si sarebbe allontanato da me ancora di più perché lei camminava alla velocità di chi si sposta da un punto a un altro e io non l'avrei mai raggiunta perché io mi sposto solo lentamente tranquillamente, quasi immobile col passo di uno che non va da un punto a un altro ma che da un posto sempre uguale spia chi passa davanti a lui e aspetta che modifichi leggermente il suo percorso e se io dico che lei ha fatto una curva e che senz'altro vorrà farmi credere che era uno scarto per evitarmi e io le risponderò invece che era un movimento per avvicinarsi a me senza dubbio la spiegazione è che lei non ha affatto deviato che non esiste nessuna linea retta se non relativamente a un piano che noi ci muoviamo su due piani distinti e che infine esiste solo il fatto che lei mi ha guardato e che io ho intercettato il suo sguardo o viceversa e che muovendomi la linea sulla quale lei si spostava da assoluta che era è diventata relativa né dritta né curva fatale tuttavia mi dispiace per lei ma io non ho desideri illeciti i miei commerci si svolgono nelle ore del giorno sancite per questo in luoghi autorizzati per il commercio illuminati dalla luce elettrica forse sono una puttana ma se lo sono il mio bordello non è di questo mondo il mio bordello fa sfoggia di sé alla luce della legge chiude le porte la sera con tanto di timbri legali e di illuminazione elettrica perché anche la luce del sole non è del tutto affidabile e ha le sue preferenze che cosa si aspetta da un uomo che non fa mai un passo che non sia autorizzato sovidimato legale inondato di luce elettrica fino ai minimi recessi e se io sono qui lungo il percorso in attesa sospeso spiazzato fuori gioco fuori vita provvisorio praticamente assente per così dire non qui e se ho fatto uno scarto anche se non c'è un motivo per cui la linea che io stavo seguendo faccia improvvisamente una curva è perché lei mi sta sbarrando la strada pieno di intenzioni illecite e presumendo intenzioni illecite anche in me ora deve sapere che quello che più al mondo mi ripugna anche più dell'intenzione illecita persino più dell'azione illecita stessa è lo sguardo di chi ti presume pieno di intenzioni illecite e abituato ad averne e non solo per lo sguardo in se stesso che è comunque così torbido da intorbidire un torrente di montagna e il suo sguardo farebbe risalire il fango anche dal fondo di un bicchiere d'acqua ma perché basta il peso del suo sguardo perché la verginità che in me si senta violata l'innocenza colpevole e per colpa sua la linea retta che si presume dovrebbe portarmi da un punto luminoso a un altro punto luminoso si spezza in uno scuro labirinto nel territorio scuro in cui mi sono perso lei sta cercando di infilare di nascosto una spina sotto la sella del mio cavallo per farlo innervosire in modo che si imbizzarrisca ma se il mio cavallo è nervoso certe volte è vizzoso io lo trattengo con briglia corta così non si imbizzarrisce tanto facilmente una spina non è un coltello lui conosce lo spessore della sua pelle può sopportarne il fastidio comunque chi può dire di conoscere fino in fondo gli umori di un cavallo quindi sappia che se io parlo così con dolcezza ancora con rispetto forse non è come per lei che parla una lingua che la fa riconoscere come quello che ha paura una piccola paura acuta stupida troppo scoperta come quella di un bambino che si aspetta uno schiaffo dal padre io parlo la lingua di chi non si fa riconoscere la lingua di questo territorio di questa frazione del tempo in cui gli uomini tirano il loro guinsaglio e i maiali sbattono la testa contro il recinto io sto trattenendo la lingua come uno stallone perché non si lanci sulla giumenta se lasciassi la briglia se allentassi leggermente la pressione della dita e la tensione delle braccia le mie stesse parole mi disarcionerebbero e si lancerebbero verso l'orizzonte con la violenza di un cavallo berbero che sente il deserto e nulla lo può fermare è per questo che fin dalla prima parola io l'ho trattata correttamente anche senza conoscerla fin dal primo passo che ho fatto verso di lei un passo corretto umile rispettoso senza sapere se c'era qualcosa in lei che meritasse rispetto senza sapere nulla di lei che potesse farmi capire se il raffronto delle nostre due condizioni autorizzasse me a essere umile e lei arrogante io le ho ceduto l'arroganza per l'ora del crepuscolo nella quale ci siamo avvicinati in un l'altro perché l'ora del crepuscolo nella quale lei si è avvicinato a me è quella in cui la correttezza non è più obbligatoria diventa quindi necessaria in cui niente è obbligatorio se non un rapporto brutale nel buio e io sarei potuto piombare su di lei come una stoffa sulla fiamma di una candela avrei potuto sorprenderla afferrarla per il collo della camicia è l'offerta di questa correttezza necessaria ma gratuita allegarla a me magari solo perché avrei potuto calpestarla come uno stivale schiaccia una cartaccia perché io sapevo per via della statura che fa la nostra principale differenza e a quest'ora in questo luogo solo la differenza di statura conta lo sappiamo tutti e due chi è lo stivale e chi è la cartaccia se l'ho guardata sappia che avrei voluto non farlo lo sguardo vaga si posa e crede di essere in uno spazio neutro e libero come un'ape in un campo di fiori ma che cosa se ne fa uno del suo sguardo guardare per aria mi rende nostalgico e fissare per terra mi intristisce e allora bisogna guardare diritti davanti a sé alla propria altezza qualunque sia il livello su cui il piede provvisoriamente si poggia ed è per questo che mentre stavo camminando laddove poco fa camminavo e dove ora sono fermo il mio sguardo doveva prima o poi incrociare qualsiasi cosa vi si trovasse fermo in movimento alla mia stessa altezza ora per effetto della distanza e delle leggi della prospettiva tutti gli uomini e tutti gli animali si trovano provvisoriamente e approssimativamente alla mia stessa altezza in effetti forse la sola differenza che ci rimane per distinguerci uno dall'altro o la sola ingiustizia se preferisce è quella che fa sì che uno abbia paura di essere eventualmente preso a botte dall'altro e la sola somiglianza o la sola giustizia se preferisce sta nel fatto che tutti e due ignoriamo in che misura questa paura sia condivisa in che misura l'eventualità di queste botte potrà in un immediato futuro diventare realtà e in che misura queste botte saranno violente non facciamo che riprodurre il solito rapporto che gli uomini e gli animali vivono fra di loro in ore in luoghi illeciti e tenebrosi dimenticati dalla legge e dall'elettricità ed è per questo che io in odio agli animali e in odio agli uomini preferisco la legge preferisco la luce elettrica e ho motivo di credere che ogni tipo di luce naturale di aria non filtrata di temperatura delle stagioni non corretta rendano il mondo rischioso perché non c'è pace nel legge negli elementi naturali non c'è possibilità di commercio nel commercio illecito esistono solo la minaccia la fuga e l'affare per se stesso senza un oggetto da vendere un oggetto da comprare senza moneta valida e senza scala di prezzi tenebre tenebre di uomini che si abbordano nella notte e se lei mi ha abbordato è perché in fin dei conti voleva picchiarmi e se io le chiedessi perché voleva picchiarmi lei mi risponderebbe che è per una sua ragione segreta che non è necessario che io conosca lo so e allora io non le chiederò niente ho messo il piede in un rigagnolo di stalla dove scorrono misteri come rifiuti animali da questi misteri e da questa oscurità che a lei appartengono è nata la regola fra due uomini che si incontrano bisogna sempre scegliere di essere quello che attacca e senza dubbio a quest'ora in questi posti bisognerebbe avvicinarsi a tutti gli uomini o animali sui quali si è posato il nostro sguardo colpirli e dire io non so se è la sua intenzione colpirmi per una ragione assurda e misteriosa che comunque non avrebbe ritenuto necessario farmi conoscere ma in ogni caso ho preferito farlo io per primo e la mia ragione per quanto assurda almeno non è segreta è che aleggiava per via della mia presenza e della sua e per l'incontro accidentale dei nostri sguardi la possibilità che fosse lei a colpirmi per primo altrimenti se fosse vero che siamo lei il venditore in possesso di merci tanto misteriose da non volerle rivelare e che io non ho nessun mezzo per indovinare e io il compratore con un desiderio tanto segreto da ignorarlo io stesso tanto segreto da dover viattare la memoria come una crosta e farne colare il sangue per accertarmi di averne uno se tutto questo è vero perché continuo a tenerle nascoste le sue merci visto che mi sono fermato e solo qui aspetto se me le mostrerà se darà un nome alla sua offerta lecita o illecita almeno sarà definita e valutabile se lei le darà un nome io saprò dire no e la smetterò di sentirmi come un albero vacillante sotto un vento che non viene da nessuna parte e ne scuote le radici perché io so dire no e mi piace dire no sono capace di stordirla con i miei no di farle scoprire tutti i modi che ci sono di dire no che cominciano da tutti i modi che ci sono per dire sì come fanno certe smorfiose quando provano tutte le camicette e tutte le scarpe per non comprarne poi nessuna e il piacere che hanno nel provarle tutte consiste nel piacere che hanno di non comprarne nessuna si decida si scopra che cos'è lei il bruto che calpesta il selciato o un commerciante in questo caso comincia a tirar fuori la sua mercanzia e io mi fermerò a guardarla è proprio perché voglio essere un commerciante e non un bruto ma un commerciante sul serio che non le dico quello che possiedo e che le propongo non voglio sopportare il rifiuto la cosa che i commercianti temono di più perché è un'arma di cui loro non dispongono io non ho mai imparato a dire no e non ho nessuna intenzione di impararlo ma tutti i modi per dire sì io li conosco sì aspetti un attimo aspetti molto aspetti qui insieme a me un'eternità sì ce l'ho ce l'avrò ce l'avevo ce l'avrò di nuovo no non l'ho mai avuto ma l'avrò per lei e se mi dicono mettiamo che uno abbia un desiderio che lo confessi e che lei non abbia niente per soddisfarlo io rispondo io quello che ci vuole per soddisfarlo ce l'ho e se mi dicono provi lo stesso ad immaginare di non averlo anche immaginando una cosa del genere io ce l'avrei lo stesso e se mi dicono mettiamo che in fin dei conti questo desiderio cede un genere tale che lei non vorrebbe neanche avere l'idea di che cosa ci vuole per soddisfarlo ecco anche senza volerlo malgrado tutto io ce l'avrei lo stesso ma più corretto è un venditore più il compratore è perverso i venditori cercano di esaudire un desiderio che non conoscono ancora il compratore invece pospone sempre il suo desiderio alla soddisfazione primaria di poter rifiutare quello che gli viene proposto così il suo desiderio inconfessato è esaltato dal rifiuto e egli dimentica il suo desiderio nel piacere di umiliare il venditore ma io non sono della razza di quei commercianti che mettono sottosopra il negozio per soddisfare il gusto del cliente non sono qui per dar piacere io ma per riempire l'abisso del desiderio per richiamare il desiderio alla mente per costringere il desiderio ad avere un nome per trascinarlo fino a terra dargli forma e peso con l'inevitabile brutalità che c'è nel dare una forma e un peso al desiderio e poiché vedo il suo apparire agli angoli della bocca come saliva che le labbra ringhiottono aspetterò che le coli lungo il mento e che lei lo sputi prima di tenderle un fazzoletto perché so già che se glielo offrissi troppo presto lei lo rifiuterebbe e questo è un dolore che non ho intenzione di sopportare perché è quello che tutti gli uomini e tutti gli animali temono nell'ora in cui l'uomo cammina allo stesso livello dell'animale e l'animale cammina allo stesso livello dell'uomo non è la sofferenza quello che temono più di ogni altra cosa è la stranezza della sofferenza e l'essere costretti a sopportare una sofferenza sconosciuta dunque la prego non si rifiuti di dirmi l'oggetto della sua febbre del suo sguardo fisso su di me me la dica la ragione e se il problema è di non sentirsi ferito nell'orgoglio va bene la dica come la direbbe a un albero o davanti a un muro di una prigione o nella solitudine di un campo di cotone dove si passeggia nudi di notte me la dica senza neanche guardarmi perché la sola vera crudeltà in quest'ora del crepuscolo in cui tutte e due ci troviamo non è che un uomo ferisca l'altro o lo mutili o lo torturi o gli strappi le membre e la testa o anche solo lo faccia piangere la crudeltà vera è terribile è quella dell'uomo dell'animale che rende l'uomo l'animale incompiuto che l'interrompe come dei puntini di sospensione in mezzo a una frase che gli volta le spalle dopo averlo guardato che riduce l'uomo e l'animale a un errore di sguardo un errore di giudizio un errore come una lettera appena iniziata e brutalmente stracciata subito dopo aver scritto la data lei è un bandito troppo strano che non ruba niente o aspetta troppo a rubare un razziatore centrico che si introduce di notte nel frutteto per scollare gli alberi e se ne va senza raccogliere frutti lei che conosce questo posto io sono lo straniero io sono quello che ha paura e che ha ragione di avere paura io sono quello che non la conosce che non può conoscerla che cerca di intuire il profilo della sua ombra nell'oscurità toccava a lei indovinare nominare qualcosa e allora forse con un lieve cenno del capo io avrei provato da un segno avrebbe saputo ma io non voglio che il mio desiderio sia sparsa inutilmente come sangue della straniera lei non sta rischiando niente lei di me conosce l'inquietudine l'esitazione nella diffidenza sa da dove vengo e sa dove vado lei conosce queste strade conosce quest'ora conosce i suoi piani io non so niente sto rischiando tutto davanti a lei mi sento come davanti a quegli uomini travestiti da donna che si mascherano da uomo alla fine non si capisce più dov'è il sesso la sua mano si è posata su di me come quella del bandito sulla vittima o come quella della legge sul bandito e da allora io soffro soffro nell'ignoranza ignorando il mio destino ignorando se sono imputato o complice non sapendo quello di cui soffro soffro di non sapere quale ferita mi sta infliggendo e da dove il sangue sgorga può darsi che in effetti lei non sia affatto strano ma solamente astuto può darsi che lei non sia altro conservo della legge travestito come la legge a volte ne produce a immagine e somiglianza del bandito per braccare il bandito può darsi che tutto sommato lei sia più legalitario di me e poiché io sono lo straniero che non conosce né la lingua né le usanze né il diritto né il rovescio e che agisce come stordito perduto ecco che è come se le avessi chiesto qualcosa è come se le avessi chiesto la peggiore delle cose e fossi colpevole per aver della chiesta fuori di me è colato un desiderio come sangue ai suoi piedi un desiderio che non conosco e non riconosco che lei è il solo a conoscere e a giudicare se le cose stanno così se lei sta cercando con la sollecitudine sospetta del traditore di costringermi a agire con lei o contro di lei perché io sia in ogni caso colpevole se è questo allora almeno riconosca che io non mi sono ancora mosso né a suo favore né contro di lei che non c'è ancora niente di cui mi si possa accusare che fino a ora io mi sono comportato onestamente testimoni che non sono piombato dal nulla nell'oscurità dove lei mi ha fermato che mi sono fermato solo perché lei ha messo la sua mano su di me testimoni che ho invocato la luce che non sono strisciato nell'ombra come un ladro di mia volontà e con intenzioni illecite ma che qualcuno mi ha sorpreso nel buio e io ho gridato come un bambino nel suo letto quando la lampada notturna tutta un tratto si spegne se lei pensa che io sia animato da intenzioni violente nei suoi confronti forse ha ragione non abbia fretta di dare un genere o un nome a questa violenza lei è nato con l'idea che il sesso di un uomo si nasconde in un punto preciso e che lì rimane e conserva gelosamente questa idea io invece anche se sono stato partorito come lei so che il sesso di un uomo col tempo che passa ad aspettare a dimenticare a star seduto nella solitudine si sposta dolcemente da un posto all'altro non si nasconde mai in un punto preciso ma diventa visibile dove meno lo cerchiamo che non ci sono travestimenti possibili per una cosa del genere ma una dolce esitazione delle cose come le stagioni intermedie che non sono nell'estate travestite da inverno nell'inverno d'estate io non sono astuto sono curioso ho posato la mia mano sul suo braccio per pura curiosità per sapere se è una carne che sembra quella di una gallina spennata corrisponde il calore di una gallina viva o il gelo di una gallina morta e adesso lo so quando oggi l'ho toccata ho sentito in lei il freddo della morte ho anche sentito che lei soffriva per il freddo come solo un essere vivente può soffrire per questo le ho dato la mia giacca per coprissi le spalle perché io non lo soffro il freddo non ne ho mai sofferto tanto da soffrire di non conoscere questa sofferenza tanto che il solo sogno che facevo da bambino uno di quei sogni che non sono obiettivi cui tendere ma prigioni supplementari che segnano il momento in cui il bambino si accorge delle sbarre della sua prima prigione come chinnato da schiavi sogna di essere figlio del padrone il mio sogno personale era di conoscere la neve e il gelo di conoscere quel freddo che la fa tanto soffrire se le ho prestato solo la giacca non vuol dire che io ignori che lei non soffra il freddo solo nella parte alta del corpo ma con licenza parlando anche dall'alto in basso addirittura forse un po' oltre ma mia madre che non era affatto avara ma dotata del senso delle convenienze mi disse che se è cosa confacente donare la camicia o la giacca o qualsiasi altro indumento copra la parte alta del corpo bisogna sempre esitare a lungo prima di donare le scarpe e non è in nessun caso decente dar via i pantaloni ora come so che la terra sulla quale lei io e tutti quanti poggiamo poggia a sua volta in equilibrio sulle corna di un toro ed è tenuta in questa posizione dalla mano della provvidenza così mi sforzo di non uscire mai dai limiti della decenza ed evito tutto ciò che è indecente come un bambino deve evitare di sporgersi dal tetto anche prima di capire la legge della caduta dei corpi e come il bambino crede che gli proibiscano di sporgersi dal tetto per impedirgli di volare così per molto tempo ho creduto che vietassero ai ragazzi di dar via i pantaloni per impedirgli di svelare l'esuberanza o il languore dei loro sentimenti ma adesso che capisco più cose che riconosco meglio le cose che non capisco che sono rimasto per tanto tempo in questo posto e a quest'ora che ho visto passare tanti passanti che li ho guardati o qualche volta posato loro la mano sul braccio tante volte senza capire niente senza voler capire niente ma senza per questo rinunciare a guardarli a cercare di posare la mano sul loro braccio io so bene che non c'è niente di così indecente né nell'esuberanza né nell'anguore da doverli nascondere è che bisogna seguirla la regola senza sapere il perché oltretutto detto senza offesa coprendole le spalle con la mia giacca speravo di rendere il suo aspetto più familiare ai miei occhi una estranetà eccessiva può farmi diventare timido e prima vedendola venire verso di me mi sono chiesto come mai un uomo non malato si vestisse come una gallina malata di tigna che perde le penne e si ostina a passeggiare per l'aia con le piume fissate sul corpo dal capriccio della malattia e senz'altro per timidezza mi sarei accontentato di grattarmi la testa se non avessi visto nel suo sguardo fisso su di me la luce di chi sta nel vero senso della parola per domandare qualcosa e questa luce mi ha distratto dal suo ridicolo abbigliamento si può sapere cosa vuole da me ogni gesto che io scambio per un pugno finisce in una carezza è inquietante ricevere carezze quando ci si aspettano percosse io esigo che lei sia almeno diffidente se vuole che mi trattenga visto che mi sta dando ad intendere che deve vendermi qualcosa perché non domandarsi prima se posso pagarla le mie tasche potrebbero essere vuote sarebbe stato onesto da parte sua chiedermi prima di tutto di far vedere sul banco i miei soldi come si fa con i clienti sospetti invece niente di tutto questo che gusto ci trova a rischiare di essere imbrogliato non sono venuto in un posto simile per trovare dolcezza la dolcezza lavora sul dettaglio attacca morsi seziona le forze come un cadavere su un tavolo anatomico ho bisogno di sentirmi integro l'ostilità almeno mi conserverà intatto si arrabbi altrimenti dove andrò a prenderla la mia forza si arrabbi non ci allontaneremo troppo dalle nostre questioni e saremo sicuri di stare trattando tutti e due lo stesso affare perché se io capisco dove trovo il mio piacere non sto capendo dove lei trova il suo se per un attimo avessi dubitato che lei non fosse in grado di pagare quello che è venuto a cercare qui quando si è avvicinato a me mi sarei scostato i negozi da quattro soldi esigono che i clienti provino la loro solvibilità ma le boutique di lusso indovinano e non chiedono niente non si abbassano mai a verificare l'importo di un assegno e l'autenticità della firma ci sono oggetti da vendere oggetti da comprare per i quali il problema di sapere se l'acquirente sarà in grado di coprire la spesa e quanto tempo impiegherà decidere non si pone nemmeno così io sono paziente perché non si offende un uomo che si allontana quando sappiamo che ritornerà su un insulto non si può tornare indietro mentre di una gentilezza ci può sempre pentire e è meglio abusare di quest'ultimo piuttosto che far uso anche una sola volta del primo per questo io non mi arrabbio ancora perché per me esiste un tempo per non essere arrabbiato e un tempo per essere arrabbiato io mi arrabbierò forse quando tutto questo tempo sarà trascorso e se per ipotesi ammettessi che io non sono stato arrogante solo perché lei mi ha pregato di esserlo quando si è avvicinato a me per qualche disegno che io ancora non riesco a indovinare e che tuttavia mi trattiene qui se per ipotesi le dicessi che quello che mi trattiene qui è l'incertezza in cui mi trovo circa le sue intenzioni e l'interesse che questo suscita in me nella stranezza dell'ora e la stranezza del luogo e la stranezza del suo avvicinarsi a me io avrei potuto avvicinarmi a lei mosso da quel movimento che ogni cosa conserva in sé fin tanto che non gli viene impresso un movimento contrario forse lentamente ma pieno di speranza sprovvisto di ogni desiderio formulabile ma pronto a essere soddisfatto da quello che mi sarebbe stato proposto avrei potuto avvicinarmi a lei aspettandomi da lei il gusto di desiderare l'idea di un desiderio l'oggetto il prezzo e la soddisfazione non c'è niente da vergognarsi a dimenticare la sera quello di che lei mi dicesse di essere per il momento sprovvisto di desideri da esprimere per stanchezza o per oblio o per l'eccesso di desiderio che conduce all'oblio io di rimando le risponderei per esempio di non affaticarsi ulteriormente e di prendere in prestito un desiderio altrui la giacca di un uomo tiene caldo anche portata da un altro ed è più facile prendere in prestito un desiderio che un vestito dato che io devo vendere a tutti i costi e a tutti i costi lei deve comprare allora compri per qualcun altro qualsiasi desiderio vagante riuscirà a raccattare sarà un affare per esempio per far contento e soddisfare chi si sveglia vicino a lei fra le lenzuola la mattina una fidanzatina che potrebbe desiderare svegliandosi qualcosa che non ha ancora e che a lei farebbe piacere regalarle e lei sarebbe contento di possedere perché l'avrebbe comprata da me e comunque questa merce potrebbe servire a qualcun altro se per ipotesi lei non sapesse che farsene la regola la regola vuole che un uomo che incontri un altro uomo finisca sempre per dargli delle pacche sulle spalle parlandogli di donne la regola vuole che il ricordo della donna sia l'ultima risorsa dei combattenti sfiniti lo vuole la regola la sua regola io non mi ci sottometterò io non voglio trovare una pace nel segno dell'assenza della donna né nel ricordo di un'assenza né in qualsiasi tipo di ricordo i ricordi mi ripugnano e gli assenti pure preferisco i piatti non ancora toccati al cibo già digerito non voglio una pace venuta da chissà dove io non voglio dover trovare una pace ma lo sguardo del cane esprime solo la convinzione che tutto intorno a lui sia senza umbra di dubbio canino così lei vuol far credere che il mondo sul quale stiamo lei e io sia tenuto in bilico sulla punta del corno di un toro dalla mano della provvidenza mentre invece io so che galleggia sul dorso di tre balene che provvidenza equilibrio non esistono esiste solo il capriccio di tre mostri dementi i nostri monti dunque non sono gli stessi e la nostra stranezza è mescolata alle nostre nature come l'uva nel vino no io non alzerò la zampa davanti a lei negli stessi suoi posti no io non sono soggetto alla sua stessa gravità io non sono uscito dalla stessa femmina perché non è al mattino che io mi sveglio e non è fra le lenzuola che dormo non se la prenda vecchio mio non se la prenda io sono solo un povero venditore che non conosce altro che questo pezzetto di mondo dove aspetta di vendere e che sa solo quello che gli ha insegnato la mamma e siccome lei non sapeva niente o quasi anch'io non so niente o quasi ma un buon venditore cerca di dire quello che il compratore vuol sentire e per tentare di indovinarlo dovrà pure leccarlo un po' per riconoscerne l'odore il suo odore personale non mi ha risultato per niente familiare è vero noi non siamo proprio usciti dalla stessa madre ma per avere il coraggio di avvicinarmi a lei ho immaginato che anche lei doveva pure essere uscito da una madre come me che anche a lei come a me sua madre doveva avere regalato un numero incalcolabile di fratelli come un attacco di singhiozzo dopo un banchetto e che in tutti i casi ci avvicina l'assenza di unicità che caratterizza tutte e due e mi sono attaccato a quello che perlomeno avevamo in comune perché si può viaggiare a lungo nel deserto a condizione di avere un punto di riferimento da qualche parte ma se mi sono sbagliato se lei non è uscito da nessuna madre se nessuno le ha dato dei fratelli se lei non ha una fidanzatina che si sveglia al mattino vicino a lei fra le lenzuola vecchio mio io le chiedo perdono due uomini che si incrociano possono solo scegliere di picchiarsi con la violenza di due nemici o con la dolcezza di due fratelli e se alla fine scelgono nel deserto di quest'ora di evocare quello che non c'è passato sogno nostalgia è perché si fa fatica ad affrontare direttamente troppe stranità davanti al mistero conviene aprirsi e svelarsi totalmente così da costringere il mistero a fare altrettanto i ricordi sono l'arma segreta che l'uomo conserva su di sé anche quando è spogliato di tutto l'ultima franchezza che domanda in cambio la stessa franchezza la nudità estrema io non mi vanto e non mi vergogno di quello che sono ma poiché non la conosco e la conosco sempre meno ogni momento che passa ecco come la giacca di cui mi sono privato e che le ho offerto come le mani che le ho mostrate disarmate se io sono un cane e lei un uomo o se io sono un uomo e lei qualcos'altro di qualunque razza io sia e di qualunque razza sia lei la mia almeno io la offro al suo sguardo lascio che lei la tocchi che lei mi tasti che si abitui a me mi lascio perquisire come uno che non vuol nascondere le sue armi per questo le propongo con prudenza seriamente tranquillamente di guardarmi con amicizia perché si fanno affari migliori se si è protetti dalla familiarità non sto cercando di imbrogliarle non le chiedo niente che lei non voglia dare il solo cameratismo per cui valga la pena di impegnarsi non implica che si agisca in un modo piuttosto che in un altro ma che non si agisca per niente quello che io le propongo è l'immobilità la pazienza infinita e l'ingiustizia cieca dell'amico poiché non c'è giustizia fra chi non si conosce e non c'è amicizia fra chi si conosce come non c'è ponte senza torrente mia madre mi ha sempre detto che è da imbecilli rifiutare un ombrello quando si sa che sta per piovere la preferiva sub dallo che amichevole l'amicizia più spilorcia del tradimento se era di sentimento che avevo bisogno gliel'avrei detto l'avrei chiesto il prezzo e l'avrei pagato ma i sentimenti si scambiano solo con i sentimenti è un commercio finto con soldi finti un commercio da poveri che scimmiotta il commercio cosa vuol dire scambiare un sacco di riso con un sacco di riso lei non ha niente da propormi per questo butta sul banco i suoi sentimenti come quando i cattivi negozianti fanno lo sconto sulla merce scadente così poi non ci si può più lamentare del prodotto io sentimenti da darle in cambio non ne ho sono sprovvisto di questo tipo di moneta non mi è venuto in mente di portarla con me mi perquisisca pure quindi si tenga le mani in tasca tenga la mamma a casa tenga i suoi ricordi per quando è solo è il minimo che possa fare non saprei che farmene della familiarità che lei subito la mente sta cercando di instaurare fra di noi non ho voluta io la sua mano sul mio braccio non ho voluto la sua giacca e non voglio correre il rischio di essere confuso con lei perché tenga presente che se poco fa lei si è stupito tanto della mia tenuta e non ha creduto opportuno nascondere la sua sorpresa la mia di sorpresa quando l'ho vista avvicinarsi a me è stata almeno altrettanto grande ma in terra straniera lo straniero si abitua a dissimulare il suo stupore perché ogni stranezza per lui diventa usanza locale e gli conviene adattarsi come al clima o alla cucina tipica ma se io la portassi tra i miei amici se fosserei lo straniero costretto a nascondere il suo stupore e noi gli indigeni liberi di dimostrarlo la circonderebbero segnandola a dito la prenderebbero di certo per un fenomeno da baraccone e mi chiederebbero dove si comprano i biglietti no, lei non è qui per il commercio lei si è trascinato fin qui per l'accattonaggio e per il furto che lo segue inevitabile come la guerra alle trattative lei non è qui per soddisfare desideri perché desideri io ne avevo sono caduti attorno a noi li abbiamo calpestati grandi, piccoli complicati facili le sarebbe bastato chinarsi per raccoglierne a manciate ma lei li ha lasciati rotolare nel tombino perché anche quelli piccoli anche quelli facili lei non avrebbe avuto di che soddisfarli lei è povero e non è qui per il suo piacere ma per miseria per necessità è per ignoranza io non faccio finta di comprare immaginette né di pagare gli accordi melensi di una chitarra a un angolo di strada faccio la carità se ne ho voglia oppure pago le cose il loro prezzo ma che i mendicanti facciano il piacere di mendicare che abbiano il coraggio di tendere la mano e che i ladri facciano il piacere di rubare io non voglio né insultarla né piacerle non voglio essere né buono né cattivo non voglio picchiare né essere picchiato non voglio sedurre né che lei cerchi di sedurmi voglio essere uno zero detesto la cordialità non sono portato alla confidenza e più che della violenza delle percosse o paura di quelle del cameratismo quindi cerchiamo di essere due zeri belli rotondi l'uno all'altro impenetrabili provvisoriamente giusto apposti per poi rotolare ognuno nella sua direzione qui soli come siamo nella solitudine infinita di quest'ora e di questo posto un'ora è un posto indefinibili dato che non c'è motivo che io mi incontri qui con lei né motivo perché lei si incontri qui con me né motivo di essere cordiali né un possibile numero che ci possa precedere dandoci un senso cerchiamo di essere due semplici solitari e orgogliosi zeri è troppo tardi il conto è stato fatto e bisognerà pure che qualcuno lo controlli è giusto rubare a chi non vuole cedere e tiene tutto gelosamente chiuso nei suoi forzieri per il suo piacere solitario ma è da maleducati rubare quando tutto è in vendita e tutto si può comprare e se è provvisoriamente conveniente avere i debiti e accordare a qualcuno una ragionevole dilazione nei pagamenti è osceno dar via le cose è osceno accettarle gratuitamente noi ci siamo trovati qui per commerciare non per combattere quindi non sarebbe giusto che ci fossero sconfitte un vincitore lei non se ne andrà di qui con le tasche piene come un ladro non dimentichi che il cane che fa la guardia alla strada le morderà il culo poiché lei è venuto qui nella collera ostile degli uomini e degli animali per non cercare niente di tangibile poiché per non so quale oscura ragione vuole essere picchiato a sangue prima di girare i tacchi le toccherà pagare e vuotare le tasche così da non aver debiti con se stesso così da non essersi regalato niente non si fidi del mercante il mercante che viene derubato è più geloso di un proprietario che viene rapinato non si fidi del mercante i suoi discorsi hanno la maschera del rispetto e della dolcezza la maschera dell'umiltà e la maschera dell'amore ma soltanto la maschera ma in fin dei conti che cos'è che lei ha perso e che io non ho vinto perché ho un bel frugare nella memoria ma io non ho vinto proprio niente certo che pago le cose il loro prezzo ma non pago certo il vento l'oscurità il nulla che c'è fra di noi se lei ha perso qualcosa se il suo tesoro si è alleggerito da chi mi ha incontrato dove è andata a finire quello che manca a tutti e due me lo faccia vedere no io non ho goduto di niente no io non pagherò niente se lei vuol sapere quel che fin dall'inizio era scritto sulla sua fattura e che lei dovrà pagare prima di andarsene le dirò che è l'attesa la pazienza il lancio dell'articolo che il venditore fa al cliente e la speranza di vendere e soprattutto la speranza a far sì che tutti gli uomini che si avvicinano ad altri uomini con una richiesta nello sguardo siano già debitori da ogni promessa di vendita si deduce la promessa di comprare e c'è una penale per chi non mantiene la promessa noi due non siamo sperduti in mezzo a un campo soli se chiamassi da quella parte verso quel muro rassù verso il cielo lei vedrebbe brillare delle luci sentirebbe dei passi avvicinarsi in mio aiuto se odiare da soli è faticoso in tanti diventa un piacere lei preferisce prendersela con gli uomini perché ha paura del grito dalle donne si immagina che tutti gli uomini si vergognino a gridare lei conta sulla dignità sulla vanità e sul mutismo degli uomini io gliela regalo questa dignità se ha intenzione di farmi del male io chiamerò mi metterò a gridare chiederò aiuto le farò sentire tutti i modi che ci sono per chiedere aiuto perché li conosco tutti se non è il disonore della fuga a trattenerla perché non scappa la fuga è un'arma raffinata lei è raffinato quindi dovrebbe fuggire mi sembra una di quelle grasse signore che veleggiano fra i tavoli nelle sale da terra vesciando le tegliere si porta a spasso il culo trascinandoselo dietro come un peccato di cui prova rimorso e si gira e si rigira in tutti i sensi per far credere di non avercelo il culo faccia faccia tanto il culo glielo morderanno lo stesso io non sono della razza di quelli che attaccano per primi ho bisogno di tempo potrebbe anche finire che ci spulciamo vicenda venga con me cerchiamo gente la solitudine ci stanca c'è quella giacca che lei non ha preso quando glielo offerta adesso bisognerà pure che si abbassi a raccoglierla se ho sputato su qualcosa l'ho fatto su un vestito che è soltanto un vestito e se è stato nella sua direzione non è stato contro di lei e lei non doveva fare nessun movimento per evitare lo sputo e se lei ha fatto un movimento per riceverlo in faccia per suo piacere per perversione o per calcolo ciò non toglie che solo su quel pezzo di stoffa che io ho mostrato un po' di disprezzo e un pezzo di stoffa non presente il conto no io non mi piegherò davanti a lei questo è impossibile ci sono movimenti che l'uomo non può compiere come per esempio leccarsi il culo da solo non pagherò una tentazione che non ho avuto non sta bene che un uomo lasci insultare la sua giacca perché se la vera ingiustizia a questo mondo è quella della casualità della nascita dell'uomo della casualità del luogo e dell'ora la sola giustizia sono i suoi vestiti l'abito è ciò che un uomo ha di più sacro più ancora di se stesso è un se stesso che non soffre è il punto di equilibrio con cui la giustizia controbilancia l'ingiustizia e su questo bisogna andarci cauti perché si deve giudicare un uomo dall'abito che porta non dalla faccia né dalle braccia o dalla pelle e se è normale sputare sulla nascita di un uomo è pericoloso sputare sulla sua ribellione bene allora le propongo l'uguaglianza pago una giacca nella polvere con una giacca nella polvere diventiamo uguali uguali nell'orgoglio uguali nell'impotenza ugualmente disarmati ugualmente esposti al freddo al caldo la sua seminudità la sua mezza umiliazione gliela pago con metà delle mie ci resta un'altra metà è più che sufficiente per avere ancora il coraggio di guardarsi di dimenticare quello che tutti e due abbiamo perso per sbatataggine per rischio per speranza per distrazione per caso a me in più resterà l'inquietudine persistente del debitore che ha già saldato il conto perché quello che sta chiedendo astrattamente intangibilmente a quest'ora della notte perché quello che avrebbe chiesto a un altro perché a me non l'ha chiesto non si fidi del cliente all'area di cercare una cosa invece ne vuole un'altra che il venditore non sospetta e che alla fine riuscirà a ottenere se lei fuggisse io la rincorrerei se lei cadesse sotto i miei colpi starei vicino a lei fino al suo risveglio e se lei non tornasse in sé resterei al suo fianco fin nel suo sonno nella sua incoscienza al di là eppure io non ho voglia di fare a botte con lei io non ho paura di battermi ma diffido delle regole che non conosco non ci sono regole ci sono solo mezzi ci sono solo le armi provi a raggiungermi non ci riuscirà provi a ferirmi quando il sangue scorrerà sarà da tutte e due le parti e ineruttabilmente ci unirà come due indiani che si scambiano il sangue vicino al fuoco in mezzo alle bestie feroci non è l'amore non è l'amore no lei non potrà raggiungere niente che non sia già stato raggiunto perché un uomo prima muore può cercare la sua morte e alla fine la incontra per caso sul tragitto casuale da una luce o un'altra luce e dice dunque era solo questo la prego non ha per caso detto qualcosa che desiderasse da me che io nel frastuono della notte non ho sentito non ho detto niente non ho detto niente e lei nella notte nell'oscurità così profonda che chiede troppo tempo perché ci si abitui non mi ha proposto niente che io non ho indovinato niente allora qual è l'arma abbiamo trasmesso nella solitudine dei campi di cotone di Bernard Marie Coltess adattamento radiofonico di Mario Martone personaggi e interpreti il dealer Claudio Amendola il cliente Carlo Cecchi coordinamento tecnico Violetta Parodi collaborazione Arturo Cirillo regia di Mario Martone Grazie a tutti